Nel giorno della marmotta, se la marmotta esce e vede la sua ombra, ci sono ancora, mi pare, 4-8 settimane d'inverno, qualcosa del genere. Nel mondo nostro, quando Rinaldo fa lavare l'auto, prima che Super Quark venga a fare una puntata, per la condizione di microfauna che si crea all'interno, piove per tre settimane almeno, e infatti da pesata. Vi racconto questa, poi parliamo di pallone. Ho fatto lavare l'auto sabato, dopo un sacco di tempo, condizioni di necessità prima che mi arrivassero i caschi blu a casa. Faccio lavare l'auto nel pomeriggio, pomeriggio, auto parcheggiata all'aperto, un uccello di passaggio decide di ricordarmi quanto bella sia stata la sensazione di avere per due ore l'auto pulita, e poi dalla sera acqua, che tu dici, lava via quella roba, sì, però non è così. Quindi sappiate che sono previste al nord, zona Friuli, almeno tre settimane di pioggia, e quindi non lo farò più per un bel po' di tempo. Allora, detto questo, 18.30 questa sera alla Compagnia della Lai, punto il dito, punto il dito anche un po' contro i giornali oggi, perché io capisco che si debba scrivere, capisco che si debba romanzare, ma se le cose stanno davvero come raccontano i giornali, non siamo sulla buona strada. Perché se io devo credere al giornale che mi scrive che oggi c'è il summit di mercato tra i dirigenti e Cardinale, perché Gerry è qui, io non posso credere a questa cosa, non posso, offenderei la mia intelligenza e anche la logica, perché la logica mi dice che il mercato in Milan lo sta già facendo e se lo stai già facendo hai già un'idea di budget, un'idea di spesa, è sbagliato parlare di budget, bisogna parlare di spesa, di margini, di payroll, di queste cose qua, che a noi interessano giusto. Ma non posso credere che finisca il campionato e al giorno 5 giugno, no? Al 5 giugno si incontrano e dicono, oh Gerry allora, I want to know, eccetera, 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 eccetera. E quell'altro gli dice, oh no money, no così cash flow, tutte queste robe. Ragazzi, non è possibile che sia così. All'inizio di, anzi, alla fine dell'anno precedente si fa un budget per l'anno successivo, si fa un piano di massima che poi tiene conto delle variabili, quindi incassi Champions, non incassi Champions, qualificazione, infortuni, necessità, bisogni, eccetera, e poi si interviene sul mercato con delle trattative che sono già iniziate, perché non posso pensare, perché altrimenti qui si avrebbe a che fare con i direttanti e siccome non sono direttanti, non posso pensare che al giorno 5 giugno ancora i nostri dirigenti non sappiano quali sono i loro margini di manovra. Questa cosa è inammissibile. Al pari di questi famosi 50 milioni dei quali si continua a scrivere che detta così non vuol dire assolutamente niente e noi lo sappiamo perché ce lo siamo spiegati varie volte. E quindi tutto questo non può e non deve essere vero, anche perché facciamo finta che tutto questo sia vero. E quindi oggi si incontrano e comincia il discorso. Ma com'è possibile pensare di fare mercato e rinforzare una squadra come il Milan mettendosi all'opera adesso e magari andando incontro anche a divergenze di vedute, perché poi dopo, sapete, da una parte c'è Paolo che non è uno che gli dici poi quelle cose così e lui dice va bene, ok, ti dà una pacca sulla spalla. Sai mai, sai mai. Quindi non voglio, posso e devo credere a questa cosa qui. Stasera chiederò ai miei amici della live che cosa ne pensano, ma io la ritengo veramente una sparata giornalistica della peggiore specie perché è proprio una presa in giro. E non posso pensare che rappresenti la verità. Ci sono altre cose che secondo me rappresentano la verità. Il fatto, intanto che ci ha salutati Ibra, il fatto che il prossimo anno uno degli aspetti sui quali Pioli dovrà lavorare ed è molto importante e non ne abbiamo parlato tantissimo, è il discorso dei centrali difensivi. Non è possibile avere in squadra centrali difensivi che si cambiano in ogni partita. Ora sembra che la coppia Ciao Tomori sia quella che gli dà più garanzie, ma devono esserci i titolari in quel ruolo lì. Nessuna squadra, voglio dire, a meno che non trovi soluzioni alternative alla propria tattica, come è successo nel Manchester City, nessuna squadra cambia di frequente i centrali difensivi. Sarebbe come cambiare il portiere ogni partita. No, ci sono dei ruoli che per amalgama, che per necessità devono essere quelli. Quindi prossima stagione è fondamentale partire con la certezza di quali saranno i nostri difensori centrali. È una cosa alla quale ho pensato ieri e che condivido con voi come pensiero, poi ne riparleremo, ma credo che sia uno dei punti da tenere ben presente. E poi c'è la questione del quinto posto. È qua, è qua, si è fatta la guerra. Qua si è fatta la guerra perché, ma se, ma se, ma se, qui l'unico se, ve lo dico io qual è, l'unico se è questo, che se non avessero sollevato il Vespaio e le conseguenti, e la conseguente penalizzazione per la Juventus, noi oggi saremo quindi in classifica. Questo è l'unico se. Tutto il resto è, ma se la Juve non avesse potuto comprare. Eh, ma se, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cioè, se la Juve non avesse fatto gli illeciti non avrebbe potuto comprare certi giocatori. Va bene? Ok, ma ci sono troppi se nei ragionamenti di chi dice no, noi siamo arrivati quarti perché loro hanno imbrogliato. A parte il fatto che adesso, anche basta su questa storia di Juve vanno, è come l'Inter, è fallita a proposito, non lo so, perché io ho guardato l'orologio ma ancora non ho visto notizie, non so, magari fallita mentre ero a bere il caffè. Sono, è un gioco, è un gioco che serve a tenere, come dire, a tenere rabbioso, come diceva il grande Richard Benson, il livore, no? A tenere rabbioso il tifoso. Perché il tifoso? Mi sembra che abbia un po' la tendenza alla giustificazione e un po' meno così all'accettazione che tante cose non sono andate bene. In tanti la pensano come me e quindi hanno capito che, o per meglio dire, hanno sviluppato, no, hanno capito, anche io ho la ragione, ma hanno sviluppato un punto di vista critico nei confronti della squadra perché il risultato rispetto all'anno scorso, rispetto alle aspettative, rispetto a tutto quanto, non è stato all'altezza, per tutte le ragioni che sappiamo. Ma quelli che sostengono che il campionato, e parte che il campionato è falsato perché prima 16, poi 10, poi sì, poi no, tutta una confusione, ma poi io guardo quello che il campo mi restituisce e al di là del fatto che la Juventus possa o meno comprare giocatori e quindi poi dopo prendersi le sanzioni, eccetera, mi interessa il giusto, quello che mi interessa è il passo indietro notevole della mia squadra, è questo che mi interessa, è questo che deve fare la differenza. E allora, parlare di quinto posto non è un modo per giustificare la Juventus, ma figuratevi se io vengo a difendere la Juventus, io, che devo dire la verità è l'unica squadra che proprio non mi sta per niente simpatica, ma non che le altre mi stiano, non che ami l'Inter, ma fra tutte proprio la Juventus per tante ragioni, storicamente è una squadra per la quale non provo alcuna simpatia, ma mi serve affinché tutti i tifosi o la maggior parte dei tifosi si rendano conto che questa stagione deve essere una stagione che va considerata come se noi avessimo raggiunto il quinto posto, non il quarto posto, perché il quarto posto è artificiale, come artificiali erano gli acquisti della Juventus, no, stando ai tribunali. Quindi questo, ed è importante e non è un'accusa nei confronti del... non è solo un'accusa nei confronti della nostra squadra, è un appiglio per un miglioramento, è motivo per insistere affinché quelli che fanno il summit lo facciano bene, comprino giocatori importanti, non mi portino a casa Arnautovic e mi dicano che il prossimo anno il nostro attacco è Giroud, Arnautovic e Orighi, no, no, non mi portino a casa Loftus-Cic e basta al centrocampo dicendomi che lui è il sostituto di Benassert, faccio un esempio, no, no, non mi basta, non è possibile, non è possibile. La curva ieri ha scritto una cosa giusta, è il momento del salto di qualità, è il momento del salto di qualità, adesso ci sono tutte le condizioni, i presupposti, per portare al Milan gente da Milan, l'ha chiesto anche Pioli, l'ha detto Maldini, l'ha chiesto Pioli, allora si fa o non si fa? Perché se noi partiamo dal presupposto che la squadra è quarta, ti dicono che hai raggiunto l'obiettivo. Se noi partiamo dal presupposto che la squadra sul campo è quinta, a prescindere da quello che hanno fatto gli altri, dalle loro bulucce, dai loro magheggi eccetera, allora c'è bisogno di rinforzarla. Questo è sottile, è una sfumatura, ma è importantissima per indirizzare, nei limiti ovviamente delle nostre possibilità, che sono solo quelle di far sentire un pezzettino della voce del tifo milanista, di indirizzare le scelte dei nostri dirigenti, perché da oggi comincia la battaglia del mercato, andare sul mercato e comprare giocatori da Milan, fare le scelte giuste, non perdersi per 200.000 euro di robette perché no, ma allora sai mi tiro indietro, se si decide di prendere un giocatore si prende un giocatore, se non si riesce a prenderlo se ne prende un altro, a parte il fatto che poi io anche su questa cosa, vi saluto, ecco un altro discorso interessante, ma io comincio a dubitare anche di quando ti raccontano, ma non solo al Milan in generale, le trattative del tipo, ah io volevo prendere il giocatore X, però la società, loro vogliono quel costo di cartellino, e che non lo sapevi anche prima, cioè perché sei andato a informarti, oppure è arrivata ai giornali questa cosa, lo sapevi anche prima il prezzo, se tu vai in un concessionario, vedi le auto, c'è un prezzo peso fuori, che funziona in grosso modo così, gli stupori, del mercato estivo, battaglia da oggi, è alle 18.30, ne parliamo con gli amici della compagnia della live, e soprattutto non dimenticate 366-111-2964, è il numero di telefono per i vostri messaggi, una parte li sentiamo stasera, una parte li sentiamo giovedì in talk, e poi venerdì sera, venerdì 9 giugno, a partire dalle 21, ospiti importanti, amici del canale, ciao.